Questa è una registrazione di quanto riesco a incazzarmi con il computer Troverete un nuovo lato di me Perché di solito con le persone sono più paziente Ma porca troia questa merda si è completamente bloccata Ma... Ma... Dio incrocia Ma cosa cazzo hai contro di me, stronzo? Adesso cosa faccio? Tutto, tutto si è bloccato Decide di non voler funzionare più e ti sfancula Così Senza preavviso Potessero impiccare te e tua madre, madonna Cioè, ma c'è Satana qua dentro, c'è Satana Vada e retro Satana Esci da questo computer, Satana Io ti esorcizzo, cazzo Cosa facciamo? Boh, contro C, contro X, contro l'esplodi, no? Controllati, coglioni Ma io non lo so perché fa così Io non... 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 Non ce la faccio più Sono due giorni che... Va avanti così A montare tutto Cosa ho fatto adesso? Cosa stai facendo? Gli stai facendo il massaggio cardiaco Ma è morto Non vedi come c'ha notico Ce la faccio più Lo... Non vedi...